Situazione profughi sempre più pesante a Gorizia, il sindaco Ziberna risollecita il governo a intervenire. 12 napoletani simulavano incidenti stradali e fingevano ferimenti per essere risarciti da un'agenzia di Cervignano. Il caso della bimba morsa ieri da un canne nella bassa Priulana non è isolato, secondo l'azienda sanitaria il fenomeno cresce. Ristrutturazione in vista per il ponte Matteotti di Grado, riapertura prevista a marzo, tanti disagi per chi abita e chi vuole raggiungere l'isola del sole. L'Udinese torna al lavoro al Bruseschi e sarà in ritiro fino alla delicata partita contro la Juventus. A tutti voi buonasera e ben trovati al telegiornale di Udinese TV. Tante notizie anche oggi che approfondiremo tra poco in compagnia di Francesco Pezzella. Buonasera Francesco. Buonasera Giorgia, di solito si finisce con il vino, si brinda, invece noi apriamo con un bel bicchiere di vino, con un bel bicchiere di sauvignon. Notizia dell'ultimissima ora, si è chiusa la vicenda in tribunale relativa alle accuse di frode nell'esercizio del commercio e vendita di sostanze alimentari non genuine. Ricorderete, si parlò del cosiddetto sauvignon adulterato. Ramon Persello, che aveva dei processi un po' in tutta Italia, ha patteggiato una pena di sei mesi che accorpa tutto quello che aveva in piedi dal punto di vista giudiziario in tutta Italia. Hanno patteggiato in 31 persone fisiche più 10 aziende, quindi in totale si è definita la posizione con il patteggiamento di 41 casi, 41 situazioni. Poi avremo dei dettagli maggiori nelle prossime ore, dunque domani avremo modo di approfondire questa vicenda. Quel che è certo è che comunque oggi in tribunale si è chiusa questa vicenda con i patteggiamenti e dunque con 41 posizioni che hanno scelto questo tipo di soluzione. C'è anche chi ha deciso di andare a giudizio, un'azienda ha deciso di andare a giudizio perché evidentemente non ha ritenuto opportuno accelerare i tempi per chiudere questa questione, questione che ha anche un po' rallentato negli anni iniziati nel 2015, ha rallentato un po' l'attività di parecchie aziende. Potrebbe essere anche questa la motivazione per cui in molti hanno scelto di patteggiare, chiudere la vicenda, voltare pagina e andare avanti. E questa è la notizia flash che vi abbiamo dato in apertura immediatamente proprio perché è appena uscita e proprio perché insomma chiude un po' una vicenda di cui si è parlato davvero molto. Ma siamo sempre in contatto e pronti online a darvi ulteriori aggiornamenti. Ora però passiamo alla pagina dedicata come sempre all'Udinese prima di tornare alle altre notizie di cronaca di oggi. Allora buonasera anche ad Alice Maselloni. Buonasera Giorgia e buonasera a tutti voi. Parliamo di Udinese, un momento delicato per l'Udinese. Torna ad allenarsi quest'oggi dopo la sconfitta contro la Fiorentina. Un lavoro differenziato fra chi non è sceso in campo e chi è sceso in campo nella gara di ieri. Appunto chi ha giocato e effettuato una seduta di scarico in palestra. Un lavoro personalizzato anche per Silvan Widmer ma un'attenta analisi da parte di tutta la squadra di tutto ciò che non ha funzionato durante il match. Martedì di ripresa degli allenamenti per l'Udinese di Gigi Del Neri che si è ritrovata dopo una prima fase video per analizzare quello che non è andato nella gara di Firenze contro la Fiorentina, in particolare in un primo tempo un po' regalato agli avversari. La squadra di Pioli è una formazione che si è ritrovata qui al centro sportivo di Nobruseschi. Sul campo tre si sono allenati quelli che non hanno giocato contro la Fiorentina o che hanno giocato parte di gara come Lazagna, come Fofanà ma come anche i subentranti Adnan, Matos e Stipe Perizza. Hanno fatto una seduta a ritmi un po' più sostenuti con esercizi di possesso del pallone e poi anche qualche partitella. Non si sono visti sul terreno verde invece rispetto a quello che era il gruppo di chi ha giocato 90 minuti, il portiere Albano Bisari, il difensore Bram Neutink, Silvan Widmer insieme agli infortunati che però si punta a recuperare il più presto possibile, Struger Larsen e Berami. Entrambi dovrebbero essere quantomeno convocati nella sfida contro la Juventus. Gli altri sei giocatori tra cui Maxi Lopez, Angela, Jankto, Barak e Samir insieme a De Paul hanno svolto una seduta defaticante per smaltire le scorie, le tossine della partita contro la Fiorentina di Pioli facendo degli esercizi di corsa e di passaggi a ritmo blando. Stasera scatta poi il ritiro che durerà fino alla partita contro la Juventus. Gara assolutamente molto intensa, molto particolare che vedrà uno stadio praticamente tutto esaurito in cui l'Udinese vorrà fare bene e contrapporre una buona prestazione contro la Juventus ferita da due non vittorie in campionato che vorrà sicuramente tornare alla vittoria. Sarà una partita intensa ma l'importante è quantomeno la prestazione e poi cercare di portare a casa un buon risultato. La settimana di lavoro è lunga, la seguiremo come al solito, tutta insieme, sempre qui dal Bruseschi. Una sconfitta questa che ha portato a delle conseguenze, come avete sentito parliamo del ritiro. Il secondo ritiro per l'Udinese di Gigi Del Neri dall'avvio di questa stagione dopo appunto il primo nella pregara contro la Sampdoria. La battuta era nata spontanea dopo quello splendido 4-0 e quella doppietta alla Sampdoria. Se questi sono i risultati, per me possiamo stare in ritiro tutto l'anno. Parole e musica di Maxi Lopez tra i migliori in campo di quella scintillante vittoria. Purtroppo per il gruppo bianconero è tornato a incombere il ritiro con la speranza che possa dare i fruttivisti proprio nell'ultima gara casalinga contro il Doria. Al di là di ogni considerazione faceta, di certo non esiste un'equazione perfetta che rega il ritiro al risultato, ci mancherebbe, ma la società bianconera ha deciso di raggruppare di nuovo la squadra, di compattarla con un ritiro che scatta nella giornata odierna e terminerà nell'immediato prepartita contro la Juventus. La gara che resta probabilmente la più difficile del campionato, o quasi, perché le ultime due non vittorie della Juventus non devono ingannare nessuno. Sì, se anche non si volesse ridurre l'analisi del momento bianconero tra i due rigori farliti allo scadere da Paolo Di Bala, non si possono comunque sottostimare i grandi meriti dell'Atalanta prima nella reazione e della Lazio poi nell'imbrigliare il gioco di Allegri. L'anno scorso del Neri ci riuscì bene, senza Terro, uomo della discordia da social dell'ultimo fine settimana bianconero. C'erano Zapata e Perizza in attacco e fecero ammattire la difesa bianconera, in particolare Bonucci. Ebbene, nemmeno il buon Leonardo ci sarà e la Juve, numeri alla mano, sta pagando lo scotto di aver separato la BBC. Vien da sé comunque che, a prescindere da chi sarà in campo, la sfida di domenica alle 18 sarà una partita da giocare con grinta, determinazione e compattezza. Doti che non possono mancare per mettere in difficoltà la vecchia signora che deve a tutti i costi vincere per sfruttare il concomitante scontro diretto tra Napoli e Inter, che farà per forza di cose perdere punti a una delle due apripista o a entrambe, ipotesi forse più gradita a Vinovo. Ma l'udinese non può sbagliare, deve lasciare tutto sul campo nella prima di tre sfide di una settimana intensa, che farà da preludio poi alla trasferta di Roma contro la Lazio. La speranza per la società è che questo ritiro possa ancora essere la medicina giusta per il male che colpisce l'udinese quando si allontana da Udine e va in trasferta. In ritiro da oggi quindi l'udinese fino all'immediato pre-partita contro la Juventus, tra l'altro una partita per cui ci si attende il sold out in Dacia Arena e per questo l'invito ad accorrere, ad acquistare i biglietti rimasti disponibili in pochi settori dello stadio, parliamo della tribuna centrale, della tribuna laterale e della tribuna distinti. Ancora pochi giorni per l'acquisto, vi ricordiamo non saranno acquistabili il giorno del match. Un'ultima notizia flash prima di passare la linea alla cronaca, quest'oggi a Zurigo sono stati effettuati i sorteggi per i play-off, li possiamo appunto vedere in schermata, i sorteggi per i play-off delle qualificazioni al Mondiale di Russia 2018 e l'Italia di Ventura incontrerà la Svezia. Il 10 novembre la gara di andata a Stoccolma e poi il ritorno il 13 a San Siro. Le altre gare che sono state appunto sorteggiate, gli altri accoppiamenti, vedranno sfidarsi l'Irlanda del Nord e la Svizzera, la Croazia contro la Grecia e la Danimarca contro l'Irlanda. Per il momento è tutto, noi ovviamente ci rivediamo più tardi, ma prima linea a voi. Grazie, grazie Alice, torniamo da te tra pochissimo. E allora dopo la notizia flash che abbiamo dato in apertura sui 41 patteggiamenti per quanto riguarda il caso Savignon, torniamo a parlare dell'emergenza profughi. Ieri vi abbiamo raccontato la situazione a grado, oggi ci spostiamo e andiamo a Gorizia, dove si fa davvero sempre più pesante la situazione, con circa 80 persone, 80 richiedenti asilo, che dormono in pieno centro nella galleria bombi. E allora il sindaco Ziberna, che ricorderete, aveva raccolto tutti gli altri sindaci dei capoluoghi della regione per presentare un documento delle richieste al ministro Minniti, ora chiede che quelle promesse fatte dal governo vengano mantenute. Sentiamo. Una trentina di nuovi arrivi al giorno, per lo più in treno, con un'ottantina di persone che per notte in pieno centro nella galleria bombi. A Gorizia la situazione richiedente asilo si fa sempre più pesante, nonostante le rassicurazioni fatte a inizio settembre dal ministro all'interno Minniti. A fronte delle conferme che a scegliere capoluogo Isontino siano sempre più migranti economici, il sindaco Ziberna intende sollecitare il governo a intervenire. A fine del colloquio che abbiamo avuto insieme agli altri sindaci ho espresso il mio personale apprezzamento, proprio perché l'ho condiviso e apprezzato le sue proposte. Però ahimè ad oggi non è accaduto niente, salvo la novità, grazie al cielo, dello spostamento della commissione da Gorizia. Ma non sappiamo quando. Noi abbiamo qualcosa come 30-40 persone che arrivano ogni giorno. In galleria bombi abbiamo 70-80 persone, grazie al cielo però dalla prefettura e dalla questura ormai ogni notte vengono identificate queste persone e sappiamo che ormai sono tutte, 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 pakistane che provengono dal centro Europa, non più da Tarvisio. Aggiungono prevalentemente il treno, perciò pagando un biglietto. L'ultima novità è che addirittura giungono con NCC, con le macchine che li portano fino alla nostra regione. Cosa scandalosa, sconcertante e soprattutto vengono dall'Europa, intendono ottenere riconoscimento in Italia perché è più larga manica rispetto ai paesi. Ecco la ragione per cui interverrò con il Ministro per chiedere ragione del fatto che ad oggi le promesse non sono state ancora mantenute. E queste le parole abbastanza chiare e dure del sindaco di Gorizia, Ziberna, c'è un'altra situazione abbastanza grave o comunque perlomeno accesa ed è a grado. Ne abbiamo parlato ieri. Ed è quella di grado. Ne abbiamo parlato ieri con la protesta dei cittadini per protestare contro l'ipotesi di accoglienza di 18 migranti a Fossalon. Andiamo a vedere sulla pagina Facebook del sindaco Raugna. Ricorderete che ieri abbiamo parlato del sindaco che aveva annunciato alcune iniziative nelle quali con incontri pubblici avrebbe spiegato quali sono gli strumenti per gestire da parte di un'amministrazione comunale il flusso dei migranti. Poi è venuta fuori una proposta delle opposizioni in Consiglio Comunale di indire un referendum per l'accoglienza dei migranti a cui avrebbero ovviamente dovuto partecipare i cittadini. Mi sembra che il sindaco, secondo l'opposizione, abbia rispinto questa proposta ma il sindaco ha risposto sempre su Facebook. Ecco qui, andiamo a leggere sulla sua pagina ufficiale. Dice, non ho bocciato alcunché ma ho semplicemente rammentato ai consiglieri che una proposta referendaria di iniziativa consigliare per essere accettata deve seguire un preciso iter che non può certo venire vaso in fretta e furia all'ultimo secondo. Dunque, se vogliamo, aperto verso le opposizioni ha la possibilità di un referendum ma nei tempi e nei modi che prevede la legge e dunque non così all'ultimo secondo. Ma è interessante che tutto questo si faccia anche su Facebook, no? Sì, si fa tutto su Facebook ormai. Poi c'è una notizia che riguarda in qualche modo l'immigrazione ma non problemi di accoglienza ma problemi di cronaca legati alla presenza di alcuni immigrati che vengono qui a delinquere. Infatti la polizia di Stato di Pordenone ha rinvenuto e sequestrato 26 grammi di droga del tipo marijuana e segnalato al prefetto di Pordenone un cittadino pakistano per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale. Nella mattinata dello scorso 11 ottobre nell'ambito di mirati servizi di prevenzione qui siamo leggendo il comunicato della polizia non la tiriamo troppo per le lunghe è stato individuato questo cittadino pakistano che aveva questo quantitativo di marijuana per uso personale ma come sapete anche l'uso personale in Italia non è consentito dunque è stato denunciato. Cambiamo argomento e vi diamo purtroppo una brutta notizia perché è stato trovato senza vita il corpo dell'escursionista di Marghera di cui si erano perse le tracce sul monte Chiampon il giovane che per lavoro si trovava a Gemona è caduto in un canalone ed è precipitato per diverse decine di metri vediamo è scivolato ed è precipitato per alcune decine di metri a quota 650 è stato ritrovato senza vita i trentenne di Marghera uscito per un'escursione sul monte Chiampon le cui ricerche sono iniziate nella notte a trovare il corpo sono stati gli operatori del soccorso alpino della guardia di finanza e dei vigili del fuoco anche grazie a un elicottero intervenuto da Venezia a supporto delle operazioni di ricerca da qualche tempo a Gemona per lavoro il giovane appassionato di montagna era salito ieri sul monte Chiampon lungo la via più battuta raggiunta la cima aveva inviato un sms a un collega di lavoro poi aveva deciso di scendere lungo il versante nord verso Casera Scricce sperava di riuscire a percorrere un sentiero che arriva sopra la verticale di Forcella Sant'Agnese ignaro però che il tracciato è abbandonato dopo essere stato interrotto una quindicina di anni fa da una frana il giovane deve essere scivolato precipitando in un canale la salma è stata recuperata e condotta al campo base di Gemona ci sono altre morti su cui si continua ad indagare Francesco? sì ci sono altre morti su cui si continua ad indagare abbiamo intanto il delitto di Pordenone quello di... ecco qui vedete anche la foto in cui è indagato Giosuè Ruotolo ecco qui ci sarebbero nuove tecnologie in grado di trovare i segreti rimasti nei telefonini si parla in pratica di un paio di messaggi che sono stati spediti da Giosuè Ruotolo alla fidanzata in risposta ad un messaggio che era stato inviato da Maria Rosaria alla fidanzata di Giosuè Ruotolo alle 20.42 un'ora dopo il delitto con messaggi alle 20.49 e 20.55 di Giosuè Ruotolo dei quali si conosce però soltanto l'ora dell'invio non il contenuto ora è stata gettata l'esca come qui leggiamo sul sito sulla pagina del gazzettino la procura ha gettato l'esca adesso bisogna vedere se la Corte d'Appello che ha chiuso il processo definito un processo indiziario dopo 37 udienze e ben 7.451 pagine di trascrizioni sarà la Corte d'Appello a decidere se vale la pena indagare ancora e andare a recuperare questi due messaggi di Giosuè Ruotolo alla fidanzata ma non è il solo delitto sul quale si sta continuando a indagare come dicevi Giorgio infatti c'è il caso della morte di Nadia Orlando per mano del suo fidanzato Francesco Mazzega e la provincia di Udine si attiva per chiedere giustizia per Nadia Orlando al fine di rendere più restrittive alcune norme legislative in materia di custodia cautelare negli uffici della portiniere di Palazzo Belgrado infatti è possibile sottoscrivere le due petizioni promosse in memoria della giovane friulana uccise il 31 luglio e da parte del fidanzato Francesco Mazzega che ha gli arresti domiciliari una raccolta di film che punta a sensibilizzare l'opinione pubblica sul discorso delle misure alternative al carcere in questo caso per Francesco Mazzega gli arresti domiciliari con il cosiddetto braccialetto con il famigerato e celebre braccialetto che gli permette di non essere in carcere come molti vorrebbero familiari della vittima in testa ma gran parte dell'opinione pubblica eh sì e sono davvero tante le petizioni e le iniziative in questo senso ora cambiamo nuovamente argomento e parliamo di un'ingegnosa truffa messa in piedi da 12 napoletani ai danni di un'agenzia di assicurazioni di Cervignano mettevano in scena finti incidenti stradali tra loro e con terze persone ignare per poi dichiarare di essere rimasti feriti in 12 sono finiti nei guai per le ipotesi di reato di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona a scoprire l'ingegnosa truffa dopo un anno di indagini sono stati i carabinieri di Cervignano 12 appunto le persone tra cui due avvocati oltre che impiegati e disoccupati implicate in vario modo nella truffa con l'obiettivo comune di ottenere un risarcimento assicurativo dall'agenzia tramite falsi documenti di identità e carte di circolazione intestate a un 46enne residente nel comune di Aurisina erano state stipulate in un'agenzia di Cervignano le polizze assicurative a copertura di due moto i militari hanno scoperto che i due veicoli circolanti nella provincia napoletana nell'arco di un anno erano stati coinvolti numerosi sinistri stradali falsi e simulati interpellato dall'assicurazione i 46enne a cui risultavano intestate le polizze è caduto dalle nuvole anche perché non è in possesso di moto i mezzi usati dai 12 napoletani li erano stati intestati falsificando tutti i documenti altre news di cronaca Francesco due notizie veloci andiamo a Cervignano si parlava di Cervignano proprio nel servizio pazza fuga nella notte per un grammo di cocaina è stato acciuffato un 22enne arrestato per resistenza violazione di domicilio detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente andiamo avanti per leggere ancora di un'altra notizia di cronaca questa volta a Udine ruba soldi a un cellulare da un furgone in soste ed è stato arrestato nei guai un 26enne di etnia Rom di Moranti a Udine scoperto dal personale della squadra mobile durante un controllo è stato anche eseguito un provvedimento restrittivo in ambito domiciliare nei confronti di un 32enne cittadino rumeno ed ora parliamo del caso della bambina della bassa friulana morsa da un cane nella giornata di ieri in molti casi le vittime sono proprio i bambini che spesso sbagliano l'approccio con l'animale siamo andati a sentire su questi episodi l'esperto al servizio veterinario dell'azienda sanitaria di Udine le pratiche per morsicature di cani o gatti sono quasi quotidiane 150 all'anno in media seguite dai veterinari perché previsto da una vecchia circolare sulla diffusione della rabbia e in questi ultimi mesi i casi ci spiega il dottore Stefano Brisinello sono in aumento le vittime soprattutto bambini e anziani non è una questione di razza più o meno docile o aggressiva quanto di comunicazione tra due esseri che usano linguaggi diversi l'approccio del bambino è tale per cui il cane non lo comprende a fondo nel senso che il cane è in grado di riconoscere il cucciolo d'uomo ma il cucciolo d'uomo in realtà si comporta da dominante tende spesso a prendere l'iniziativa si muove a scatti lancia urli e cosa fondamentale cerca sempre comunque di abbracciare il cane l'abbraccio per noi è un significato affettivo invece per il cane il tentativo di abbraccio è un segnale di sfida è un segnale gerarchico ecco quindi che il bambino che cerca di abbracciare il cane il cane si gira e la prima cosa che trova è il viso del bambino dall'esperto ancora un consiglio non risvegliare nell'animale istinti predatori ovvero non scappare ma fermarsi e lasciarsi annusare il cane ha bisogno di conoscerci con l'olfatto non si fida della vista non si fida degli altri organi di senso ma lui ci conosce chimicamente Casi ci raccontava Angela Caino in questo servizio in aumento ne ricordiamo alcuni anche del recente passato ne ricordiamo uno del recente passato peraltro poi chiusosi in maniera tragica perché a San Martino al tagliamento accadeva nel 2015 il 25 maggio 2015 siamo andati a recuperare questa notizia sul messaggero online edizione di Pordenone morta bimba di tre anni azzannata da un pastore tedesco il dramma nel pomeriggio nel cortile di casa degli zii la piccola soccorsa dagli infermieri ricoverata e poi dopo purtroppo è morta quindi nonostante poi gli appelli alla precauzione quindi a comportarsi però quando sono stati bambini è chiaro che se rimangono incustoditi non possono sapere come comportarsi e capitano queste tragedie come quella che portò alla morte di una bimba di tre anni a San Martino al tagliamento cambiamo ancora argomento e andiamo a Grado per accedere a Grado chi non ha mai percorso il famoso ponte Matteotti che è l'accesso principale di Grado ebbene attenzione perché da novembre a marzo il ponte sarà chiuso per dei lavori necessari di ristrutturazione ovviamente ci sono dei disagi ma i lavori ci dicono sono assolutamente necessari andiamo a vedere Eminente la ristrutturazione per il ponte Matteotti di Grado il collegamento tra Quilleia e l'Isola del Sole necessita infatti della sostituzione dell'impalcato della campata aggirevole risalente al 1936 come reso noto da FVG Strade ci vorrà circa un mese per il rinforzo delle campate in cemento armato adiacente all'impalcato le operazioni saranno eseguite sia dal mare che da terra mediante l'introduzione di un senso unico alternato limitato al ponte sarà poi la volta della fase più impattante ovvero della demolizione dell'attuale manufatto e della preparazione per la sistemazione di quello nuovo già pronto a Marghera in attesa di essere trasportato a grado durante tale fase che avrà inizio entro la fine di novembre sarà chiuso il traffico l'accesso attraverso il ponte e girevole siamo ben consci che le opere che andiamo ad avviare comporteranno notevoli disagi dichiara l'amministratore unico di fvg strade giorgio damiani per questo abbiamo cercato di comprimere al massimo i periodi di attività e di concordare preventivamente con la comunità di grado le migliori soluzioni se il cronoprogramma sarà rispettato i lavori saranno conclusi all'inizio di marzo quindi prima di pasqua e sono tanti siti in fase di ristrutturazione o di riqualificazione in ragione in questo periodo cominciamo da Miramare sì tra questi c'è sicuramente il castello di Miramare comincia la rivoluzione di Miramare a Trieste scrive il piccolo sulla sua pagina internet decolla il piano con le linee guida ci sono ben 4 milioni stanziati che possono essere sfruttati per rimettere a nuovo i siti tra questi come dicevamo in questo caso 4 milioni per il castello di Miramare e si discute se con il treno con il vaporetto un arrivo diversificato in un sito di metamorfosi dove il verde subirà una completa trasformazione poi anche in questo caso andremo ad approfondire meglio quali sono i progetti che riguarderanno il castello di Miramare a Trieste con 4 milioni di soldi a disposizione quindi cercasi idee disperatamente cercasi idee si cercano idee cerchiamo di tirarne fuori una a noi non lo so ci pensiamo ci pensiamo magari dopo il Tg perché ora dobbiamo parlare di altre idee che si cercano per cosa per la riqualificazione di Piazza Primo Maggio il comune di Udine sta per pubblicare il bando di idee appunto e architetti e professionisti e perché no anche Francesco Pezzella possono provare a riprogettare un'area così importante perché ci avevo pensato anch'io ma me l'hanno rubata vedi è questione di tempi vediamo il servizio 1 milione 300 mila euro per ridisegnare gli spazi di Piazza Primo Maggio dalla scalinata della chiesa della Madonna delle Grazie all'impianto di risalita al castello passando per i nodi legati alla viabilità veicolare pedonale e ciclabile il comune ha lanciato la sfida a architetti e professionisti del settore pubblicando un bando di idee per sviluppare le potenzialità di quest'area importante per la città è coerente insomma con quello che avevamo sempre detto la nostra visione il modo per riqualificare il centro era proprio quello di permettere un parcheggio di destinazione che è il famoso parcheggio di Piazza Primo Maggio rifare e pedonalizzare Piazza e via Mercoto Vecchio piazza barra via a Mercato Vecchio e adesso bisogna ridiscutere la viabilità e l'accessibilità al colle e in tutta quella che è l'area circostante ma per questa diciamo operazione chiediamo proprio la partecipazione a questo concorso di idee delle idee di tutti gli architetti urbanisti e di associazioni di architettura urbanistica che operano a Udine Un'iniziativa ha sottolineato l'assessore alla pianificazione urbanistica Carlo Giacomello che vuole essere un'opportunità per tutti i giovani architetti che vogliono mettersi in gioco al vincitore del concorso andrà anche un premio di 8 mila euro i tempi noi usciamo adesso pubblichiamo nell'albo del comune questa settimana ci saranno 60 giorni di tempo per presentare i progetti entro Natale quindi l'esame delle proposte e un mese per l'esame e dopo diciamo a livello di febbraio potremo essere pronti con l'assegnazione è un progetto è un concorso di idee non è un concorso classico però l'idea è anche quella di dare l'opportunità al vincitore che può anche essere progettista eventualmente dei vari interventi non cercano idee ma voti in particolare sulla pagina facebook di Udinese TV i due comuni di Butri e Cormons che saranno protagonisti questa sera della sfida di Versus alle ore 21 vediamo una piccola anticipazione ed ora l'appello al voto ma assolutamente dovete votare Butri perché Butri è un bel paese è un paese di gente simpatica venite a Butri e soprattutto like 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 su Butri invitiamo tutti a passare dalle nostre zone a bersi un bicchiere di vino a vedere le bellezze paesaggistiche a vedere quella che è la nostra storia e quindi a voler scoprire quelle che sono tutte le nostre qualità che sono veramente tante e che noi faremo in modo da poter evidenziare a tutti quanti insomma i miei ordini questi gli appelli dei due sindaci potete votare ve lo ricordo a partire dalle 21 sulla pagina Facebook di Udinese TV per Butri o Cormons ora torniamo a parlare di sport e allora torno da Alice Mattelloni e noi Giorgia parliamo allora di Pordenone perché si avvicinano i prossimi impegni per i ragazzi di Mister Colucci che dopo il pareggio fuori casa contro l'Albinolef di domenica torneranno a scendere in campo già nella giornata di domani per l'incontro valevole per l'accesso diretto agli ottavi di Coppa Italia contro il Vicenza questo in attesa della decima giornata di campionato dove appunto il Pordenone incontrerà il Mestre continua il Tour de Force del Pordenone che dopo aver disputato quattro turni di campionato nelle ultime due settimane ora è attesa dall'impegno infrasettimanale della Coppa Italia di Serie C l'incontro di domani al Menti di Vicenza sarà il primo della lotteria dei sedicesimi di finale e non essendo previste gare di ritorno sarà subito decisivo per l'accesso agli ottavi impegno non facile per l'undici di Colucci che non godrà del fattore campo contro una squadra che in campionato ha perso solo con la Reggiana e che si trova a soli 4 punti dalla vetta pur avendo già osservato il turno di riposo ma i ramarri nonostante la fatica degli ultimi match restano pur sempre l'unica squadra imbattuta del girone e punteranno anche su questa sfida per ritrovare un po' di brillantezza e per quanto i neroverdi siano magicamente ancora in corse nella più prestigiosa Team Cup dove a fine novembre tenteranno l'impresa a Cagliari per superare anche il quarto turno la Coppa Italia di categoria resta un obiettivo più realistico e da inseguire fino in fondo non potrebbe essere altrimenti per una squadra ambiziosa costruita per la Serie B Partita quella fra Pordenone e Vicenza che potrete seguire in differita qui su Udinese TV giovedì alle ore 17 e con questa notizia chiudiamo la nostra pagina sportiva e torno da voi Giorgia Grazie mille Alice grazie e buona serata Francesco Pezzella Grazie a te Giorgia buona serata a tutti Ricordiamo le 19.30 in replica alle 23 l'appuntamento con viceversa ci sarà Renato Pontoni per parlare di Cechedaccio buon proseguimento di serata su Udinese TV Grazie a te Giorgia